Buongiorno, ho conosciuto Serena Hobart in occasione della presentazione del suo libro Voglio fare la Wedding Planner e lì ho scoperto la possibilità di partecipare al suo corso. Ero molto curiosa di conoscere meglio il settore, di approfondire meglio questa professione perché era una curiosità che mi portavo da molto e non ero mai riuscita a trovare dei professionisti capaci di formare adeguatamente dei nuovi Wedding Planner. Al corso ho avuto occasione di conoscere anche la sua socia e collega Stefania Poletti. Sono due persone fantastiche che sono capaci di trasferire la loro conoscenza con grande professionalità, con grande trasporto e si vede la passione che hanno per questo lavoro. Sono persone molto oneste, vogliono formare nuovi professionisti del settore veramente capaci e grazie a loro io sto iniziando adesso la mia piccola attività di organizzatrice di eventi e matrimoni. Quindi mi sento veramente di ringraziarle per tutto quello che hanno fatto per noi e mi auguro di avere con loro sempre un'ottima collaborazione e un'ottima amicizia. Grazie ancora! Grazie a tutti i nostri spettatori